2.276 nuovi accessi nel 2021 ai centri antiviolenza e alle case rifugio, un dato più alto rispetto ai 2.059 accessi del 2019. Solo il 43,1% sul totale delle donne seguite ha avuto il coraggio di denunciare. Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l'ex partner, che rappresentano complessivamente l'81,9%. Questi sono i dati presentati in occasione della giornata internazionale della donna nel corso di una conferenza stampa, durante la quale sono state illustrate le misure che il Dipartimento Welfare della Regione Puglia sta adottando nei confronti delle donne vittime di violenza, alle quali andrebbe dato un supporto concreto affinché possano iniziare o tornare ad essere autonome e indipendenti. Dedichiamo per tutta questa giornata alle donne ucraine, alle ragazze ucraine, alle bambine ucraine, a tutte quelle donne che stanno vivendo un momento drammatico, a cui siamo ovviamente molto molto vicine, ci stringiamo in un unico abbraccio perché siamo un'unica comunità. Dopo la pandemia che ha accentuato chiaramente le difficoltà economiche, sociali, lavorative, in particolare delle donne, l'autonomia e l'indipendenza è ancora più difficile da raggiungere. Proprio per questo oggi siamo qui a presentare una nuova misura che è stata varata dalla Giunta e sono 500.000 euro che vengono messe proprio a favore, a sostegno di tutte quelle donne che vogliono appunto intraprendere un percorso di autonomia, di indipendenza. Quindi con questi soldi, laddove avranno chiaramente denunciato il maltrattante, potranno pagarsi l'affitto, pagarsi i corsi, avere comunque un minimo di supporto, di sostegno per rientrare in un percorso appunto lavorativo. Sono 500.000 euro per il biennio 2022-2023. Considerato che questa misura si va a integrare con il RED, con il reddito di dignità, che è stata proprio una misura pugliese, che è stata anche volutamente da parte della Giunta regionale anche introdotta proprio nel percorso delle donne. Quindi una parte del RED appunto viene intrapresa, viene considerata attiva per le donne che hanno appunto subito la violenza, hanno denunciato e oggi possono rientrare nella misura del RED. Anche dei minori, perché considerate che il numero dei minori presenti nelle famiglie che magari subiscono in maniera diretta o indiretta psicologicamente questo grosso disagio, questa grossa violenza che poi probabilmente li andrà a marcare, li andrà a condizionare per tutta la vita, è altissimo.